E' arrivata la scadenza del suo mandato, un bilancio di questa attità che comunque si protrae da moltissimi anni? Sì, è un bilancio che riguarda molti anni, riguarda più fasi della vita della regione toscana nel quale alla guida del Partito Socialista ho sempre cercato di tenere viva la testimonianza e la storia del Partito Socialista, l'idea socialista e trasferirla anche in un lavoro istituzionale fatto di contributi sempre costruttivi nel segno di una lealtà rispetto ai diversi presidenti della regione che si sono susseguiti, un contributo fatto di idee innovative e anche di proposte volte a modernizzare la Toscana sotto il piano economico, culturale e sociale e soprattutto cercare di spingere perché la Toscana possa divenire sempre di più una società più aperta. Allora, adesso che cosa si apre davanti a lei? Sì, il mio tempo è finito, si apre una stagione nuova e quindi nella stagione nuova si dovrà cercare anche momenti di rinnovamento nella guida del partito e nel gruppo dirigente per affrontare le nuove sfide, le nuove sfide che investono un po' tutto il futuro dei partiti minori. Mi pare si vada a delineare i due campi più larghi, l'accordo sulle riforme elettorali e sulle riforme costituzionali fra Renzi e Berlusconi paiono a delineare un campo più largo della destra e un campo più largo della sinistra. E quindi la sfida sarà quella di come trasferire tutto il portato della nostra storia, della nostra cultura politica nella prerogativa di sollecitare, io credo, questo campo largo a trasformarsi, a andare oltre e assumere anche quelli che sono i valori, le peculiarità e anche il contributo culturale e politico che il riformismo socialista può dare al rinnovamento della sinistra italiana. E questo riformismo socialista può in qualche modo riconoscersi anche in una figura come Renzi? Sicuramente Renzi ha messo in campo delle idee molto innovative e rappresenta anche un po' l'elemento di rinnovamento della politica e bisognerà vedere se riuscirà a rinnovare la politica e a trasferire il rinnovamento della politica nel rinnovamento delle istituzioni. Questa è la grande sfida. Ci provarono socialisti negli anni Ottanta a contrastare un compromesso storico che poi si è trasferito nella formazione del Partito Democratico e che lo ha visto manifestarsi in maniera insufficiente. L'operazione dell'assemblaggio dell'ex DS con gli ex Margherita credo abbiano determinato un punto sul quale il Partito Democratico non può pensare di rilanciarsi e quindi ha bisogno di innervarsi, io credo anche di quella cultura che fa riferimento all'umanesimo socialista affinché i democratici possano chiamarsi da domani democratici e socialisti così come i socialisti in Europa si chiamano appunto socialisti e democratici. Ultima domanda. Secondo lei ci saranno problemi martedì prossimo in Consiglio regionale per questo voto di fiducia che ha chiesto Rossi sulla nuova giunta? Ma guardi il tema è quello di capire se c'è uno sforzo del Partito Democratico a comprendere le ragioni dei partiti che stanno in maggioranza nel delineare una legge elettorale che non gli ponga di fronte il tema del proprio suicidio politico. Questo è il punto politico di rimente della questione che sovraintende al passaggio in Consiglio regionale di martedì prossimo da parte del Presidente con questa esposizione di un programma del fare bene l'ultimo anno della propria legislatura. E quindi vediamo se nelle prossime ore, nei prossimi giorni si delineranno delle posizioni di avvicinamento, volte diciamo così se non proprio a rimuovere, quantomeno ad attenuare questa impostazione assunta dal PD per il quale c'è una maggioranza di governo che sostiene il Presidente della Regione e una futuribile maggioranza variabile che si appresta e si appresterà a formarsi sul voto sulla legge elettorale.